andiamo da qua risi con calma pensiamo pensi pensi con calma con molta calma manco io tranquillo aha uno è caduto con calma dove sei morto possibile davvero ah no tu sei pronta ma però di un tavolo non so che ci riesce oh sì perché non so non è vero non è vero sicuro eh sei sicuro michael sei sicuro sei sicuro sei sicuro ah 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 la 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 10 punti uh 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 che belva